Ok, ciao a tutti, sono nella camera d'albergo, siamo allo Star Hotel Presidente di Genova E questo è una meraviglia La camera è più piccolina di quella di ieri Però costa tantissimo di più Sono al nono piano e la vista è abbastanza figa Va qua, ho qualche roba Non so se riuscire a vedere qualcosa, però spero di sì Figata assurda Come dicevo è piccolina la stanza Ci sono comunque due reti, non si sa perché Perché è una doppia, giustamente Super specchio della paura Televisore Comodino, questo comodino sembra tipo controlli aerospaziali, guarda Questo non so cos'è quindi non lo tocco Perché ho paura di far danni Il mini bar non lo guardo neanche, anzi ve lo faccio vedere Ma non tocco niente perché La stanza questa costa 400 euro a notte in bassa stagione In alta stagione 600 Faccio del bagno va Così se dovete vomitare potete vomitare Che è piccolino, più piccolino di quello di ieri Qua c'è l'estero Ma si apre sta merda Non far casino Allarme? What the fuck? Ah ok, per le emergenze Però non c'è manco un bel set di benvenuto Era mai quello di ieri C'era anche lo spazzolino, il rasoio C'è solo la cuffietta alla doccia Il bagno schiuma E lo shampoo Che bello Quindi per questo unboxing è tutto Ora metto a editare il video Per la giornata di oggi E metto a registrare il video Per la challenge di domani Quindi vi saluto Ciao Trototototti